Dopo circa 20 anni dalla delibera dell'allora Consiglio Comunale di Riva, che con l'approvazione della variante urbanistica destinava l'area ex 5 maggio al progetto di ampliamento del liceo Andrea Maffei, è stata comunicata la data in cui sarà concluso il progetto. Il presidente della giunta provinciale, Ugo Rossi, nella sua risposta all'interrogazione presentata dal consigliere 5 Stelle, Filippo De Gasperi, scrive che si deve considerare che il nuovo Maffei sarà agibile non prima dell'inizio dell'anno scolastico 2022-2023. La spesa prevista, fa sapere ancora Rossi, è di oltre 26 milioni di euro. Nel novembre scorso è stato approvato il progetto definitivo. A giorni inizierà la demolizione del compendio ex 5 maggio. Nell'autunno 2018 è previsto l'inizio dei lavori di ampliamento e a fine estate 2022 l'opera sarà conclusa. A breve verrà demolito il fatiscente compendio ex 5 maggio. Il contratto con la ditta vincitrice dell'appalto è stato firmato e la prossima settimana la stessa ditta pronterà il cantiere per partire con le demolizioni la settimana successiva.